Ciao, ciao, ciao! Mi chiamo Laura e ci troviamo in Piazza Vecchia di fronte alla Biblioteca Angelo Mai della città di Bergamo, dove sono custoditi due preziosi globi realizzati nel 1600 da Vincenzo Maria Coronelli. Oggi nel 2011 questi globi sentono il peso di 400 anni di storia e rischiano di vedere compromessa la loro tramandabilità. Per questo il fai giovani Bergamo chiama i giovani non solo della città a prendersi cura di questo inestimabile tesoro. Già nel 1600 era considerato un grande artista della raffigurazione cartografica dell'epoca. Con gli occhi di oggi potremmo dire un vero designer, tanto che nel tempo ne fece altre coppie per conto di Ray Luigi XIV e altre corti europee. Osservando da vicino questi globi possiamo comprendere di avere di fronte un antesignano Google Arts. Ed è davvero incredibile perdersi nei dettagli e nelle curiosità di queste sfere. Nel 1797 sono scampati alle confische di Napoleone, salvate quindi dalla famiglia Camozzi-Vertova, vengono restituite alla città nel 1834. Nel 1797 sono scampati alle confische di Napoleone, salvate quindi dalla famiglia Camozzi-Vertova,